Ben ritrovati a questa nuova edizione del telegiornale di TV City. In apertura facciamo il punto sui contagi nei comuni del Vesuviano. Tornano ad aumentare i positivi. Registrato ieri a Torre del Greco un altro decesso. Ritrovato in un appartamento a Napoli il Salvatore Mundi, storico dipinto dal grande valore artistico ed economico. Scacco ai clan da parte dei carabinieri di Napoli. 15 arresti per associazione mafiosa, istorsione ed omicidio. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 11.000 prodotti contraffatti in una profumeria a Portici. C'erano anche tantissime mascherine non a norma. In chiusura i rifiuti a Torre del Greco. Continuano le lamentele dei cittadini e le denunce ai microfoni di TV City. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Tornano ad aumentare i contagi da Covid-19 a Torre del Greco. Ieri sono stati certificati 35 casi di positività, di cui 3 ricoverati, 2 ripositivizzati in regime ospedaliero ed i restanti in isolamento domiciliare. Boom di guarigioni, sempre ieri 77. Purtroppo si è registrato anche il decesso di un cittadino di 68 anni. Sono 17 i nuovi positivi ad Ercolano, a fronte di 19 nuovi guariti. Al momento quindi i positivi totali sono 354, a fronte di 1.727 guariti. A Torre annunziata sono 19 nuovi casi di contagio registrati ieri. A contempo si registrano anche 12 guarigioni. 346 cittadini attualmente positivi, 336 posti in isolamento domiciliare e 10 ricoverati. 90, invece, i nuovi positivi registrati a Castellammare di Stabbia, nel periodo dal 14 al 18 gennaio 2021. 42 di essi presentano sintomi lievi della malattia. Tra i nuovi contagiati ci sono un bimbo di due mesi, 9 cittadini tra i 4 e i 16 anni, 6 persone tra gli 81 e gli 86 anni ed un 98enne. I guariti per lo stesso periodo sono 14, tra di essi un 86enne. Gli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile durante un'attività di indagine hanno rinvenuto, occultato in una camera di un appartamento in via strada provinciale delle Brecce, il Salvatore Mundi, dipinto di scuola leonardesca risalente al XV secolo. Il dipinto fa parte di una collezione custodita presso il Museo Doma della Basilica di San Domenico Maggiore a Napoli e collocato nella cappella Muscettola, da cui era stato trafugato. Il proprietario dell'appartamento, un napoletano di 36 anni con precedenti di polizia, rintracciato poco distante dall'abitazione, è stato sottoposto a fermo per ricettazione. Il Cristo benedicente, raffigurato in questa tavola, conservata nella Sala degli Arredi Sacri, è tratto da un quadro recentemente attribuito a Leonardo da Vinci e venduto all'asta per 450 milioni di dollari, ora in una collezione privata da Abu Dhabi. Una raffinata stesura pittorica, ancora ben conservata, caratterizza il piccolo prezioso dipinto proveniente dall'antica cappella della famiglia Muscettola. Il quadro fu probabilmente acquistato da Giovanni Antonio Muscettola, esponente dell'omonima famiglia, consigliere di Carlo V e suo ambasciatore alla Corte Papale, durante una delle sue missioni diplomatiche svolte al nord, forse proprio a Milano. Nella mattinata odierna i carabinieri dell'uncleo investigativo del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito una misura cautelare personale nei confronti di 15 indagati, tutti appartenenti al clan d'ausilio, operante nei quartieri di Cavalleggeri d'Aosta, Bagnoli, Coroglio e Dagnano. Sono ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazioni di tipo mafioso, omicidio, lesioni personali, detenzione illegale di armi, estorsione, favoreggiamento, ricettazione ed altro. L'11 maggio 2016 il detenuto d'ausilio Felice, figlio dello storico capo clan d'ausilio Domenico, detto Mimio sfregiato, lasciava la casa in reclusione di Tempio Pausania, dove stava scontando la pena dell'ergassolo per reati omicidio ed associazioni di tipo mafioso, per godere di un permesso. Una volta uscito dal carcere, autorizzato a recarsi presso l'abitazione della sorella, libero e senza scorta, di fatto ausilio si rese immediatamente irreperibile. D'ausilio Felice, sebbene in clandestinità, imponeva il suo predominio per riconquistare il controllo delle attività criminali sui suddetti quartieri e fin da subito si registrò un'escalation di violenze constese, pestaggi, atti intimidatori e dimostrativi posti in essere da soggetti a lui riconducibili per la ripresa e la gestione delle attività illecite sul territorio. In quel momento appannaggio il gruppo Bitonto Nappi. Le investigazioni coordinate alla DDA Partenopea, oltre a consentire la cattura il 19 dicembre 2016 e l'attitante d'ausilio Felice e l'individuazione della sua rete e i fiancheggiatori, hanno fatto emergere l'inequivocabile contrapposizione armata in atto tra i suddetti gruppi criminali e la piena operatività del clan d'ausilio, rientrante nella sfera di influenza e di controllo dei licciardi, famiglia aderente allo storico cartello della criminalità organizzata denominato Alleanza di Secondigliano. Inoltre sono state documentate numerose estorsioni in danno di attività imprenditoriali e commerciali, imprese dili, bar, ufficine meccaniche, liti balneari, parcheggiatori abusivi, prostitute e dormeggi di barche, con il pagamento, con cadenza periodica o una tantum, di somme di denaro tra 150.000 euro. Le indagini hanno permesso inoltre acquisire importanti elementi probatori in relazione ad una gestione mafiosa dei parcheggi abusivi in prossimità dei locali notturni insistenti sull'area freghea. che si concretizzava anche con azioni violente nei confronti degli stessi parcheggiatori per costringerli a sottostare al dominio criminale e avversare una parte degli introiti illeciti alle casse del sodalizio, con il pagamento di una tangente di almeno 200 euro a settimana. Proprio nell'ambito di questa strategia criminale è avvenuto l'omicidio del parcheggiatore abusivo a Rigo Gaetano il 17 giugno 2016, per il quale sono stati raccolti grave indizi di colpevolezza a carico di due affiliati al clan. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro in una profumeria di portici oltre 22.800 tra articoli per la cosmesi e mascherine facciali contraffatti e pericolosi per la salute. I finanzieri della compagnia di portici hanno scoperto che nel retro del negozio erano presenti anche attrezzature per il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti. In particolare sono stati sequestrati per violazioni penali 11.600 articoli contraffatti tra cosmetici e mascherine facciali del calcio Napoli e di vari personaggi Disney, etichette adesive a Swarovski nonché 65 litri di diluenti, additivi e prodotti industriali per la cosmetica. Inoltre sequesti amministrativi anche per 11.260 articoli tra mascherine facciali, guanti lattice e prodotti di bellezza messi in commercio privi di etichettatura in lingua italiana e quindi delle informazioni per il consumatore. Il titolare, un 36 anni di Cercola, è stato denunciato per ricettazione e contraffazione, oltre che segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo. Inciviltà mista ad inefficienza del servizio di raccolta, i cittadini di Torre del Greco continuano a denunciare problematiche relative alla situazione dei rifiuti. In particolar modo, la cittadinanza rileva criticità nelle zone periferiche, dove la mancata sensibilità ambientale dei residenti si associa, a detta degli cittadini stessi, all'inadebbienza dell'impresa di raccolta. Questa mattina le telecamere di TV City hanno raggiunto il centro storico per raccogliere le opinioni dei torresi. Come trova lei la città in questi giorni? Ne vede in più di un punto di immondizie non rimosse, ma non so se le ditte, gli assessori, il sindaco, che decisione abbiamo preso, non lo so. Le zone più periferiche, sacchetti lasciati per strada, rotti, cibo che esce dalle buste, e poi comunque sono anche cittadini, come si suol dire incivili. In questo mondo così bellissimo, e ci permettiamo ancora di offendere la natura, dovremmo riguardare un po' le nostre posizioni, di qualsiasi sede sociale. Se vai a dire vicino a qualcuno alle volte, o anziano o di media età, ma a quest'ora buttate la spazzatura, la prima parola che ti attore al greco qual è? Fatti i fatti tuoi. E non è giusto. Se io dico una cosa, perché la dico? Perché dobbiamo supervivere in società, dobbiamo essere puliti, dobbiamo dare educazione ai figli. Queste cose qua non si fanno. Se questi signori fanno il loro mestiere e vengono pagati, perché non si riesce a sopperire a questo grandissimo problema che dura da anni? I rifiuti lasciano un pochettino a desiderare, specialmente la zona mia, che è via Lungheria, e capita spesse volte che ritirano i bidoni, i bidoni e i bidoni forse per pulirli, però non è che il giorno dopo li rimettono, poi li rimettono dopo 4-5 giorni e quindi siamo costretti, diciamo, alla spazzatura di buttarli in altre strade. Come vede la città lei in questi giorni? In questi giorni vedi che sono troppo buonezza e poi ci fanno pagare sempre da buonezza un sacco di soldi. Non si prendono mai a pigliò, dici che si prendono a pigliò. Poi quando diciamo una cosa ecologica, diciamo, c'è un matarasso, c'è una cosa, uno non deve andare a prendere mai, diciamo, si prendono un numero di tutte le cose e poi non vengono mai. Il classico degrado che si vede nelle città della Campania, rifiuti sparsi un po' ovunque, quindi chiaramente sinonimo sia di inciviltà da parte della gente e sia di, diciamo, inefficienza del servizio di raccolta. Quindi queste sono le caratteristiche. Ha delle aree critiche da segnalare? Ma proprio la periferia, venendo qua, ho visto proprio degli accumuli un po' più avanti, i confini con Ercolano. Poi molto degradata è pure la zona di Piscopia, via Piscopia, la zona del porto, ma anche il centro, anche la circunvalazione, via, che ne so, San Giovanni Battista. Tutto io vengo spesso a Torre del Greco per motivi miei a me di lavoro e vedo che purtroppo la città presenta molto degrado per quanto riguarda le immondizie. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it chiamando al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.